Nelle ultime ore gli ausiliari del traffico a Iserni hanno ripreso a sanzionare i cittadini che parcheggiano negli stalli a pagamento senza onorare il relativo ticket, nonostante l'emergenza sanitaria e nonostante la chiusura della maggior parte delle attività commerciali. Legalmente nulla vieta alla gemobilità di riscuotere le sanzioni. Il buonsenso tuttavia imporrebbe la sospensione del servizio almeno fino al 4 maggio. Sull'argomento i consiglieri comunali, Raimondo Fabrizio e Gianni Fantozzi avevano già presentato una richiesta scritta al sindaco d'Apollonio lo scorso 12 marzo chiedendo la sospensione del servizio durante l'emergenza sanitaria. Richiesta motivata sia dall'impossibilità di garantire la sterilizzazione continua delle tastiere sui parcometri, sia per le difficoltà economiche affrontate, soprattutto in questa fase, dai cittadini. Anche il consigliere Giovan Carmine Mancini ha chiesto al sindaco di intervenire. Le altre città del Molise hanno sospeso il servizio durante il periodo emergenziale. L'amministrazione di Sernia, anche in questo caso, si caratterizza in negativo. Ha concluso Mancini.